Dalla Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal Santuario della Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con tutti coloro che da casa ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi, Maria, aiuto dai cristiani per coloro che vivono situazioni di fragilità, ammalati nel corpo e nella mente, carcerati, disagiati, che si affidano all'intercessione della Beata Vergine di Loreto. L'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. E il verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo in fondo nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che l'annuncio dell'angio e celebrato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione a Beata Vergine Maria, guidaci la gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Del primo mistero del dolore, meditiamo l'agonia di Gesù nell'orto degli olivi. Pater nostro, seguito in Cielo e Sanctificio in nome in Tum. A te veni a te regno in Tum, fiat volontas tua, seguiti in cielo e in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicutet nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nostra malo. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, benedictus fruttus ventris tui, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedictus tui, mulieribus, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedictus tui, mulieribus, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedictus tui, mulieribus, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito, Santo come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia, il Santissimo Nome di Gesù Giuseppe e Maria, nel secondo mistero doloroso, meditiamo Gesù che viene fra gelato la colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore, e con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, e amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore, e con te tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, e amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore, e con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù, che viene incoronato di spine. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaschi, pełna Pan, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Nel quarto mistero doroso mettiamo Gesù, che carico della croce, sale il Calvare, incontra Maria, sua Madre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà. Come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi entre le donne e benedito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Giuseppe e di Dio, prega per noi peccatori. Giuseppe e 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 Dio, prega per noi peccatori. Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo, preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria sempre Vergine. Salga a noi, liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che stiamo nella prova. Liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa benedetta. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo donna loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Su tutti voi, sulle vostre famiglie, gli ammalati, i sofferenti, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagni sempre, Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave Regina del Cielo, ave Porta del Paradiso, tu doni al mondo la speranza, doni la pace. Tu accogliesti il Signore nella semplicità di Nazareth, donando al mondo la salvezza. Cristo Signore, Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia. Tu ci accogli nella tua casa, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ci accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie. 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 Grazie.